Il Rotary Club della Spezia e di Sarzana insieme hanno organizzato una serie di borse di studio per due istituti della Spezia, il Conservatorio di Via 20 Settembre e il Cardarelli, l'Istituto per Geometri. Due borse di studio del Rotary intitolate ad altrettanti soci del club, l'ex governatore Luigi Salvati, lo ricorderete, è stato segretario dell'autorità portuale per moltissimi anni e addirittura presidente del consorzio Baccini al Mugiano e il professor Renato Oldoini che come sapete è stato per tanti anni nostro collaboratore qui a Tele Liguria nella rubrica Una Casa per la Famiglia ed è stato il professore all'Istituto Cardarelli, insegnava estimo e agricoltura nell'Istituto. Due borse di studio veramente importanti perché pensate, solo per l'Istituto Cardarelli, le borse di studio raggiungono gli 11 mila euro, quindi una quota molto importante, 5 mila euro per l'Istituto per il Conservatorio di Via 20 Settembre. E allora abbiamo qui con noi il presidente del Rotary Club di Sarzana, Roberto Ballarino, ingegnere, e l'ammiraglio, lo conoscete, Andrea Toscano, presidente del Rotary Club della Spezia. Allora chiedo subito all'ingegnere Ballarino perché questa iniziativa, tra l'altro un'iniziativa fatta d'amore e d'accordo tra i due rotari della nostra provincia. Guardi, è un'iniziativa, devo dire verità, che è nata per un'intuizione, secondo me, molto bella di Andrea Toscano, che ringrazio per avermi poi coinvolto in questo service. Un'iniziativa che si ripercuote trasversalmente sul territorio perché i due club, il Rotary di La Spezia e il Rotary di Sardana e Ricci, diciamo, prendono due aree geografiche nella nostra provincia, con le ricci, tra virgolette, che le separano. E questo service, anzi questi service sono un po' trasversali, no? Perché sia l'Istituto Cardarelli, sia il Conservatorio, anzi a maggior ragione del Conservatorio, abbracciano utenze che vengono da tutta la provincia. Quindi non è locale, inteso solamente localizzato dalla città di La Spezia, ma è un po' esteso tutta la provincia. E per quello che riguarda il Conservatorio direi anche fuori dalla nostra provincia. Quindi è un'iniziativa sicuramente molto bella, meritevole e che ha trovato nel nostro club subito il supporto e grazie all'operazione, al modus operandi di Andrea ha trovato nel distretto la capacità di trovare ulteriori risorse per mettere in piedi questa bellissima iniziativa. Ammiraglio, l'Ir Rotary negli ultimi anni ha sviluppato molto, si è presentato sul territorio cercando di inserirsi nella vita economica e sociale del territorio. Queste due iniziative che oggi presentiamo vanno su questo binario? Certamente sì, perché è nello spirito di servizio del Rotary. Il Rotary nasce proprio con l'idea di essere al servizio delle comunità, al servizio delle cittadinanze. E questi due service, nello specifico, sono proprio, come diceva Roberto, sono proprio dedicati a questo, ai giovani. Quindi cosa c'è di meglio di pensare qualcosa dedicato ai giovani. Nello specifico, nel costruire queste due borse di studio, si è anche rivelata una bella esperienza, la presenza di sponsor importanti. Si sono raggiunte queste cifre di cui si diceva proprio perché gli sponsor hanno contribuito in maniera decisiva. Il primo è il distretto di Genova, che è il livello sovraordinato rispetto ai club Rotary di Spezia di Sarzana, che ha contribuito con un meccanismo particolare, adesso non ve lo sto a tediare, a moltiplicare quello che i club riuscivano a raccogliere sul territorio. E poi sul territorio invece ci sono stati segnali veramente di una bella sensibilità verso queste tematiche. Mi fa piacere, ecco, citare confagricoltura, confedilizia, evidentemente legate al ricordo di Renato Aldoini, ma anche perché no Rao Sartelli, che è un'azienda primaria nel settore del legname, che è proprio nel territorio, tra l'altro di Spezia, Sarzana, ecco, sul territorio appunto, sul nostro territorio, e che tanto lavoro dà anche ai giovani del nostro territorio. Quindi questa presenza e questa sensibilità anche da parte degli sponsor ha consentito, come dicevo, a raggiungere queste cifre di cui stiamo parlando, ma anche hanno dato il segno di questa sensibilità verso il mondo giovanile, cioè di fare qualcosa di concreto verso il mondo giovanile. Sono risorse che i ragazzi si troveranno, anche perché no, per chi sta uscendo in questo momento dalle scuole per le spese universitarie, o ancora di più per quelli del conservatorio, che vengono a studiare anche da tutto il mondo a Spezia, presso il conservatorio Giacomo Puccini, e che porteranno dietro in tutto il mondo il ricordo di Spezia e di come si sono trovati bene anche in questa splendida città. Ecco, come le posso chiedere, come sono state assegnate queste borse di studio e quanti saranno i ragazzi che ne beneficeranno? Dunque, le procedure e i criteri sono stati elaborati dai due istituti, cioè dai due istituti, dal conservatorio e dall'istituto del Cardarelli, individuando sia gli studenti, sia anche le metodologie con cui sono state assegnate le borse. In sostanza, sono state assegnate per una continuativa alto rendimento negli studi. Cioè, quei ragazzi, quelle ragazze che hanno dimostrato nel corso dell'anno scolastico di essere particolarmente bravi e quindi di avere risultati particolarmente importanti, sono quelli che si sono aggiudicati, ancora i nomi non li sappiamo, però si sono aggiudicati queste borse di studio. Ecco, ingegnere Vallarino, questa collaborazione col club di Sarzana, club della Spezia, presto ci sarà anche un'altra iniziativa su Sarzana. So che non ne volete parlare perché siete piuttosto resti a mettere in piazza le vostre iniziative, però ci sarà un'iniziativa importante a favore delle persone che hanno difficoltà, mi pare. Sì, assolutamente. Quest'anno con Andrea abbiamo trovato una importantissima sinergia tra i due club e questo ci ha consentito di fare dei buoni service, secondo noi, sul nostro territorio, anche in questo caso in modo trasversale. Si tratta di un'iniziativa che al momento non può essere ancora in qualche modo tanto pubblicizzata perché siamo nel campo sociale, particolarmente rivolta al campo femminile, per cui non è stato facile mettere insieme questa cosa e per il quale poi, diciamo così, con il sindaco, con l'associazione con cui stiamo portando avanti questa cosa, daremo un po' di risalto per fare comprendere l'attività rotariana, nel senso l'attività di servizio del club nei confronti del territorio, ma non possiamo fare altro perché, insomma, è una posa un po' riservata. Certo. Ecco, Ammiraglio, tra le scuole, due scuole, c'è il Conservatorio. Questo conservatorio che dà grande lustro alla nostra città perché ci sono tantissimi ragazzi che forse a volte ce lo dimentichiamo un po', ma che vengono da tutto il mondo e vivono nella nostra città per un anno, due anni, tre anni, a volte anche molto di più perché frequentano il Conservatorio. Lei nel suo piccolo, nel Rotary, ha cercato di valorizzare questa scuola perché ogni tanto all'NH Hotel si esibiscono un po' questi ragazzi che vengono e tra l'altro sono molto bravi, mi pare. Beh, assolutamente. È stata ovviamente una bella esperienza. Io devo ammettere che non sono particolarmente un cultore della musica classica in particolare, però è stato bello vedere questi ragazzi che in alcune serate, in questi ultimi mesi ci hanno deliziato con le loro esibizioni. Non posso dimenticare l'esibizione di queste ragazze che vengono dalla Cina e che sono state, oltre alla particolare caratteristica, ma sono state veramente brave. È stato un piacere dell'animo ascoltarle e sentirle cantare. È bello quello che lei ha appena accennato perché il conservatorio è proprio come una carta da visita che questi ragazzi si portano in giro per il mondo e che, lasciatemi dire, porteranno il ricordo della città e anche di questi anni della gioventù che poi sono quelli che rimangono impressi con maggior forza nell'animo umano. Saranno una pubblicità enorme per la nostra città nel mondo. Assolutamente. Bene, vi ringrazio. Ecco, queste due borse di studio, un'ultima cosa. Saranno ripetute negli anni? Intitolate appunto a Renato Aldoini e al segretario dell'autorità portuale. Luigi Salvati, sono due persone veramente importanti. Con questo non voglio assolutamente dire che non ce ne sono anche delle altre. Quindi non è escluso che lo strumento della borsa di studio, che è uno strumento anche abbastanza agevole da maneggiare dal punto di vista amministrativo, possa anche interessare altri personaggi che hanno dato lustro ai club sia di Salzana che di La Spezia. Perché no? Pensando a un premio Rotary che poi si traduce con i nomi di questi personaggi che vogliono lasciare il loro ricordo appunto nelle attività che il Rotary fa. Bene, grazie a voi e alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.